Si avvicina la prossima partita del Cagliari di Davide Nicola contro il Torino, ha parlato Renato Copparoni, doppio ex del match, ai microfoni dell'Unione Sarda. L'ex portiere ha giocato ben nove stagioni nel Cagliari e altre nove nella formazione Granata. Ecco le dichiarazioni di Copparoni, per me resta una partita particolare, bellissima, ma, lo dico sottovoce, tifo sempre per il Cagliari, sono sardo e non aggiungo altro. La squadra è in un ottimo momento, arriva da due partite dove ha preso iniezioni di autostima, due risultati pesanti che danno fiducia a tutto l'ambiente, mentre il Torino arriva da due sconfitte di fila in campionato e un passo falso in Coppa Italia. Ma soprattutto non avrà il suo giocatore più rappresentativo. L'estate 1978 Gigi mi dice in rena, dobbiamo andare a capo boy, Radice ci vuole parlare, in viaggio affrontiamo ancora una volta l'argomento di una possibile mia partenza. Ero contrarissimo ma ovviamente dovevo fare quello che la società mi chiedeva. Insomma, Radice Comunica arriva che l'offerta del Torino per me è di 400 milioni di lire, una cifra che al Cagliari sarebbe servita per ripianare i debiti e saldare i 5 mesi arretrati di stipendi. Domenica sera sarà una partita delicatissima. Dopo una partenza brillante, il Toro si è un po' seduto, il Cagliari ha messo a posto alcune cose. Rosso-blu favoriti, vedremo cosa si inventerà Vanoli.